Sono Marco Zobbel, il mio progetto si chiama Scuola dell'Informazione Automatica. Non è altro che l'idea di trasformare un ambiente pubblico creato dai cittadini per i cittadini in una scuola sull'informatica, come approggiare il computer, le prime armi, tutto quello che può essere utile per utilizzare sia gli strumenti che vengono messi a disposizione da Internet sia gli strumenti che vengono messi a disposizione dal Comune stesso, e ce ne sono tanti. L'idea è quella che il progetto si evolve da solo, cioè cittadinanza attiva un po' più preparata sui temi informatici istruisce altre persone che a loro volta vengono selezionate dagli stessi cittadini per proseguire il progetto creando così una scuola dell'informazione che si autoalimenta.